Il 25 di marzo la Casa del Sant'Agostino ha l'onore e il piacere di esitare l'asta dedicata alla collezione privata di Marco Vallora. Marco Vallora è stato un intellettuale innanzitutto, un critico cinematografico, ma soprattutto un critico artistico. Nella sua lunghissima carriera ha collezionato tutta una serie di dipinti, alcuni magari li sono stati regalati anche dagli artisti di cui ha curato le mostre o i cataloghi. In questa selezione di circa 80 opere abbiamo il suo mondo, perché queste opere erano proprio nella sua casa, nella sua ultima dimora torinese. Quindi davvero è la sua collezione privata, quella che l'ha accompagnato tutta la vita, perché ci sono delle opere che provengono proprio dalla casa paterna. L'asta avrà luogo il 25 di marzo. Vi aspettiamo!